Ciao a tutti ragazzuoli Io sono Fancy Signori in questi giorni è nata una nuova moda su Facebook incredibile A quanto pare gli alieni sono approdati sul pianeta Terra Non solo malvagi però amano ballare E quindi oggi signori andremo a vedere l'unione tra umani ed extraterrestri E mi raccomando ragazzi iscrivetevi perché altrimenti Dovrò lasciarvi questo calzino davanti casa vostra Ma per ricominciare saluto 4 persone Aga S, Noemi Maddaloni, Jay Airstyle e Flavio Mariano Ciao ragazzi Perfetto signori andiamoci a vedere la... Ma vaffan... L'alieno che balla Eh? Ed eccoci qua signori Bene Come vedete C'è un alieno che balla E bisogna imitare i suoi movimenti Però c'è da dire che imita bene Questa qui Quale espressione? C'è da capire comunque il perché Di questa cosa Però è da apprezzare il fatto che lui si sia messo un'altina verde Damme tu cusita Cosa vuol dire? Damme tu cusita Ah Ah Oddio Ma perché? Ma cosa fa? Bravissimo eh Oddio Questo non ha voglia di fare il video Ma che fa? Un po' più di enfasi però eh Non sa neanche lui cosa sta facendo Oddio Questa si è proprio messa la tutina dell'alieno Cioè è proprio identica Damme tu cusita Ah Ma perché? Non capisco Oddio Damme tu cusita Mettitela per una tutina verde Un qualcosa di verde Così non rende Poi hai il cappello Ma chi è quella lì che è passata? Ma cos'è? Chi è? Ecco Tipo questa qui Almeno è tutta verde Dai Damme tu cusita Ah Damme tu cusita Ah Hai? Non capisco perché? Oddio No vabbè Ma cosa sta succedendo? Ai Questa invece ha sbagliato colore Vestita di rosso Però vabbè Ai Oddio È la cosa più bella che io abbia mai visto Madonna Con quell'energia questa donna Fino a lei la più brava eh Vai Grande Con quali movimenti? Non li capisco Oddio Ma questo è vestito Da folletto Di babbo natale Ma perché succede questo? Ah Vai Guarda di quest'altro Che bravo Bravissimo Oddio Oddio ma con quali calze Aspetta un attimo però Alieno verde Sfondo blu No Non ci siamo Allora Facciamo le cose fatte per bene No Oh Cos'è sto balletto? Sento il bisogno di farlo subito Non è neanche difficilissimo È balletto Non sto ben capendo il meccanismo di questo balletto eh Perfetto signori Abbiamo avuto la prova che gli alieni esistono E che ballano Benino Diciamo Sicuramente meglio di te Spero che il video vi sia piaciuto E che vi abbia insegnato qualcosa Sento il bisogno di gatto Se godi fosse stato Mi invito a lasciare Un bellissimo like E se anche voi Avete provato a fare questo balletto Mi raccomando Mandatemeli In direct Su Instagram Su Facebook Da tutte le parti Perché li voglio vedere E io Ci farò una reaction sopra Inoltre vi ricordo che in descrizione Troverete tutti i link dei miei social Instagram Facebook E Google Quindi se volete Seguitemi su Instagram E lasciate un bel mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E io ragazzi vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi